Cari ascoltatori di Radio Puggino NER, oggi è un giorno molto importante, segnatevelo. Si parla di sicurezza, prevenzione e cellulari che suonano all'improvviso. Avete presente quei momenti in cui il telefono squilla e vi chiedete ma chi sarà? Tranquilli, non è uno di quei soliti messaggi spam per vendervi una pollizza o un nuovo materasso. Oggi alle 17, sui vostri cellulari in Campania e anche nelle regioni vicine riceverete un IT alert. Un test che fa parte di ex Flegrei 2024, un'esercitazione nazionale che coinvolge la protezione civile. E questa volta ci troviamo in piena simulazione di un'eruzione imminente ai campi Flegrei. Perché vi racconto tutto questo? Beh, perché ne abbiamo parlato a lungo della situazione dei campi Flegrei, abbiamo fatto tanti approfondimenti e vi ho raccontato le notizie in tempo reale. Oggi è una giornata davvero importante perché simuleranno lo scenario peggiore. Livello di allerta rosso, che significa Ehi, il vulcano sta per esplodere. Ecco, questo messaggio arriva a tutti i cellulari presenti nella zona e non solo, grazie al famoso fenomeno dell'overshooting. Già anche i telefoni nelle regioni limitrofe potrebbero beccarsi questa notifica. Quindi, amici della campagna ed intorni, preparatevi ad un trillo alle ore 17. Ma torniamo un attimo seri. Oggi si tratta solo di un test, ma serve a qualcosa di molto importante. In caso di un reale pericolo, il sistema IT Alert vi avvertirebbe del rischio imminente e darebbe il via al piano di allontanamento della popolazione. Quel piano che, diciamolo, speriamo di non dover mai vedere in azione. E quando inizieranno a testarlo davvero? Domani mattina, alle ore 9, partirà la simulazione di questo allontanamento. Ora, un piccolo spoiler. Il sistema IT Alert è attivo già dal 13 febbraio 2024, ma come ogni sistema tecnologico che si rispetti, ha bisogno di essere testato e perfezionato. Ecco perché fanno questi test. Per accogliere feedback e migliorare il servizio. Vogliamo che il sistema funzioni al meglio, perché, diciamocelo, di fronte ad un vulcano che potrebbe davvero risvegliarsi, e non un vulcano qualunque, stiamo parlando dei campi flegrei, dunque uno dei super vulcani più pericolosi al mondo, qualora dovesse davvero svegliarsi, ci fosse un'eruzione imminente, la tecnologia deve essere rapida ed efficace. Ah, e se ricevete questo messaggio oggi, ricordatevi di compilare il questionario sul sito www.it.alert.cov.it Le vostre risposte aiuteranno a capire come funziona il sistema e si spera a renderlo più preciso possibile. Certo, speriamo tutti di non trovarci mai nella situazione reale, ma meglio essere preparati e fare le cose fatte bene, o no? E pensateci un attimo, il rischio di un'eruzione non è fantascienza, ne abbiamo parlato anche nell'ultimo episodio, ci sono esperti, scienziati, che sono meno positivi, diciamo, rispetto ad una... cioè, sono un po' più negativi, se parliamo di una possibile eruzione, o positivi, non lo so come vogliamo metterlo, però fatto sta che ci hanno messo in guardia. non scherziamo col fuoco, soprattutto col fuoco che c'è sotto un super vulcano del genere. Campi Flegrei è un super vulcano e la storia ci insegna che non possiamo sottovalutare madre natura. Prevenire è meglio che curare, come si suol dire, e che dire benvenga la tecnologia quando si tratta di proteggere le nostre vite. Quindi oggi alle 17, quando il telefono vi vibrerà e leggerete il messaggio di test, sapete che dietro c'è tutto un sistema in azione che si mette in moto, anche se è solo una simulazione per garantirci un domani più sicuro. Dunque è un'esercitazione a cui tutti dovete assolutamente partecipare, tutti coloro che sono coinvolti, vivono in quella zona, devono assolutamente partecipare. Per tutte le info sull'esercitazione e sui campi Flegrei vi consiglio di dare un'occhiata al sito della Protezione Civile www.protezionecivile.gov.it Non siate pigri, è roba che potrebbe salvarvi la pelle e salvarla alle persone che amate. E con questo ragazzi vi lascio con una riflessione, la prevenzione è uno dei pochi campi in cui vale davvero la pena di essere allarmisti, pensateci. Vi racconteremo cosa accadrà con questa prima importantissima esercitazione, simulazione di una possibile eruzione vulcanica. Dunque nelle prossime ore restate incollati a Radio Fugino NER, al mio canale YouTube Marco Puggini perché continueremo a parlare di ciò che accadrà ai campi Flegrei, al super vulcano che sta allarmando da molti mesi Napoli, Pozzuoli, tutta quella zona lì che conosciamo, di cui abbiamo parlato ogni volta che c'è stata una nuova scossa, che il bradicismo si è fatto sentire. Ed ora siamo di fronte ad una simulazione importantissima a cui davvero invito tutti voi a partecipare, tutti voi che risiedete in quei luoghi. È molto molto importante per il bene di tutti, anche se speriamo che non succeda mai nulla di grave, non ci sia mai una vera e propria eruzione, un'eruzione di quelle peggiori che possiamo immaginare, ma nello stesso tempo meglio essere preparati, meglio perdere un po' di tempo ora e poi sapere cosa fare in caso ci fosse una vera emergenza. Grazie per avermi ascoltato, vi auguro una buona giornata. Ci aggiorniamo su tutto quello che abbiamo detto tra pochissime ore. Vi invito dunque a restare sintonizzati anche col vostro telefono, perché magari oggi suona per il test e anche con il sito, vi ripeto, della protezione civile www.protezionecivile.gov.it dove trovate tutte le informazioni che vi occorrono. Ancora grazie per aver ascoltato Radio Pugino NER. Tenete d'occhio il vostro telefono se siete negli intorni del vulcano, perché un giorno potrebbe essere il vulcano a chiamare la vostra attenzione. E se in quel momento non sapete cosa fare, come muovervi, rischiate davvero di fare dei danni a voi stessi, alle persone che amate e anche a tutti gli altri cittadini che invece hanno imparato come comportarsi, dove andare, cosa fare. Dunque, mi raccomando, non mancate davvero. Spero che ci siano buone notizie da questo punto di vista questa sera. Ci aggiorniamo presto qui a Radio Pugino NER.